ebbene sì ve l'avevo promesso che a 30 iscritti l'avrei fatto questo speciale e andiamo ad ingrandire un pochetto ecco quindi vedrete se baro oppure no di solito ne li farei i video così però andiamo con camma frontale cioè la webcam quindi bendata io non c'ho una benda quindi mi sa che chiudere gli occhi e non vedrò niente cioè è l'unica soluzione a meno che a meno che cuscino in faccia vai cuscino in faccia va bene intanto ce lo mettiamo qui comodo e vabbè ci mettiamo anche gli occhiali andiamo qua e ci scegliamo un brawler è difficile vai di carletto vai allora non so veramente come fare quindi andiamo via la partita e chiudiamo gli occhi ok spero di poter muovere il joystick andiamo per di qua anche di qua anche di qua vediamo un pochetto vediamo se siamo vivi oddio no ciao e andiamo un po' più di qua andiamo tipo così ok ok allora vediamo se siamo vivi ok no no perso ottavi ho messo un singolo sì mi pare vabbè il sommino time no ma io volevo in due dai raga in due dai allora andiamo sempre con carletto dopo cambio brawler però è una cosa bruttissima cioè è una cosa stranissima non vedere senza giocare vabbè comunque avviamo la partita e ciao ok provo un pochetto a sparare provo ad andare un po' più su giù ok andiamo di piccone ok controlliamo ok no sono morta e anche il nostro compagno quindi sono morta va bene va bene più sette secondi come ho fatto raga forse ho fatto anche delle kill ahahah però è giunta l'ora di cambiare brawler andiamo in arrafagemme no 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 e ninja no adesso e ninja no adesso no 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 noicia no no adesso dopo magari oddio oddio andiamo con dynamite andiamo con tic anche se non sono forti Andiamo in arrafagemme e auguratemi buona fortuna che non vinco mai con lui Allora, so che si deve andare dritti Vediamo se sono ancora viva. Oddio, oddio Ok andiamo Vediamo se abbiamo... Si sono viva Ecco Vediamo Vediamo Ok no Abbiamo perso Beh, io non gioco neanche perché so già che... Vedete Ecco Colpa mia che non ho... Non ho giocato correttamente Zero Eh, per quello avevo paura. Ho messo un grado 4 Però... Dovrò pure scendere di coppia E io scelgo... Qualcuno... Dynamite Andiamo sempre... Vai raga, ultima partita Poi... Poi... Cioè, basta Vedete... Tipo... Aspettate, mi faccio la copertina... Tipo... Ok, mi sa che l'ha verrà fatto ma non troppo... Comunque andiamo subito a farci l'ultima partita... Poi basta perché... Sto letteralmente morendo... Sto letteralmente morendo... E dai... Iniziamo... Sto partita... Non solo! Vabbè... Burdi, burdi, burde, burdi Ok, andiamo e giocchiamo l'altro po' E vediamo, lo sapevo, meno due, lo sapevo, vabbè, vabbè, io concludo qua l'episodio pazzo perché veramente, comunque grazie ragazzi da tutto il mio quale 30 iscritti, tipo io pensavo, oh no, 29, 36, ecco, io vi ringrazio tanto e direi di concludere qua il video e alla prossima raga, ciao!